Perché mi sono trasferito in Portogallo? Sono passati ormai tre anni dal mio trasferimento in Portogallo. All'epoca mi trovavo in Vietnam, ma cos'è che mi ha portato in Portogallo e per quale motivo mi sono ritrovato ad applicare i vantaggi di un sistema fiscale ipercompetitivo? Te lo dico tra un secondo. Oggi voglio raccontarti come è andata, perché mi trovo qui lungo il Tejo in questa splendida giornata di primavera, ma come sono arrivato a Lisbona e soprattutto per quale motivo mi ci sono trasferito. Ebbene, in realtà è stato tutto per accident, perché la prima volta che mi sono trasferito a Lisbona è stato per sei mesi nel 2019. La città mi aveva affascinato, ma non al punto da voler rimanere, sicuramente al punto da esplorare i vantaggi fiscali legati al regime degli NHR e non solo, perché anche ci sono determinate agevolazioni anche per chi costituisce una subsidia di una corporata all'interno del Portogallo. Però sotto il profilo fiscale mi aveva affascinato, sotto un profilo socio-culturale meno e quindi avevo deciso di risalpare per altri lidi. Era il 2020, dopo un breve cambio d'abito fatto in Italia, ero ripartito alla volta del Vietnam e lì ci fu il game changer che tutti conosciamo, cioè la pandemia. Quindi a marzo 2020 rientro in Italia perché avevo solo il passaporto italiano all'epoca, ma questa è un'altra storia, ti rimando ad altri contenuti del canale per approfondire il discorso dei passaporti. Quindi ero costretto a trascorrere il mio primo lockdown in Italia perché appunto avevo soltanto il passaporto italiano. Rientro a Napoli, città in cui io tra l'altro sono nato se non lo sai, faccio il primo lockdown terribile, era aprile 2020 se non sbaglio, fino a giugno-luio 2020 sempre, a Napoli chiuso in casa. Passa l'estate, sembrano che le cose vadano meglio, a settembre non ci penso un attimo. Rifaccio la valigia e parto verso Lisbona. Perché? Perché secondo me ha dei vantaggi molto interessanti, soprattutto per i viaggiatori, per i nomadi digitali, in generale per gli imprenditori digitali. Allora in prima battuta chiaramente il tempo è straordinario, le agevolazioni fiscali ne parliamo in un altro video, ma la posizione territoriale, anche quindi come dire sotto un profilo geopolitico e sotto un profilo di geoarbitraggio il Portogallo è un ottimo paese, come territorio è esattamente a metà tra l'Europa e il Sud America, quindi se come me sei un amante del Sud America è super comodo. Esistono voli diretti con fondamentalmente tutta la parte del centro-sud e poi chiaramente anche su New York ed è il punto più occidentale, come sapete, d'Europa, qui vicino c'è Capodaroca. Quindi sotto un profilo geografico era obiettivamente l'ideale per me, anche perché c'è un aeroporto internazionale iper ben servito. Sotto un profilo invece di geoarbitraggio il costo della vita nel 2020, arriviamo anche a questo punto, era obiettivamente molto più basso di quello italiano, io direi un meno 30-40%, il prezzo degli affitti era veramente basso, quindi era molto semplice inserirsi anche con budget limitati e trovare una qualità della vita superiore. E pensare a Lisbona per questo motivo, anche perché all'epoca era appunto il primo lockdown, non sapevamo se ce ne sarebbero stati altri, però come dire, ce lo aspettavamo in qualche modo e quindi avevo bisogno di un posto amico dove la qualità della vita fosse relativamente alta. All'epoca comunque c'era anche, come dire, era più sciolto per quanto riguarda nei confronti del Covid, non c'era un atteggiamento di chiusura totale, che poi però è arrivato, cioè anche poi qui il secondo lockdown obiettivamente è stato terribile. Quindi mi ci sono trovato un po' per scelta, un po' per caso ed è stata probabilmente però una delle scelte migliori della mia vita, a prescindere da quello che poi è successo negli anni a seguire con il Covid e senza Covid. Nonostante quindi sia finito qui per una scelta parziale, alla fine dei conti devo dire che le cose sono andate piuttosto bene. Oggi ho una rete anche sociale, una rete di amici, composta tra l'altro tra numerosissimi clienti che ho traghettato io stesso in Portogallo. Il tempo è splendido, la comida è molto semplice, è molto simile alla nostra e il messaggio che volevo mandare con questo video è consideriamo il Portogallo, in generale la penisola iberica, come sapete io oggi sono qui, domani sono in un altro paese, quindi non sono mai di parte, lavoro sempre nella più totale imparzialità. Consideriamo però il Portogallo, o comunque lo ribadisco la penisola iberica, perché oggi anche la Spagna ha grossi incentivi, come un primo trasferimento, quindi non pensiamo immediatamente, è un consiglio da imprenditore, da chi ha girato il mondo soprattutto, quindi non tanto da advisor ma da imprenditore. Consideriamo sempre una meta intermedia, se vogliamo non pagare tassi, arrivare immediatamente allo 0% tax, molto spesso pensiamo a destinazioni come Panama, come Dubai, come la Costa Rica, che va bene, ma per noi italiani potrebbe essere un po' troppo traumatica come prima scelta, quindi il mio consiglio è sempre quello di fare le cose per gradi. Trasferirsi in Portogallo oggi ci dà la possibilità innanzitutto di decomprimere le nostre finanze, perché chiaramente non andiamo a versare il 60% di tassi allo Stato italiano, ma soprattutto il primo trasferimento diventa praticamente quasi del tutto indolore, perché? Perché siamo a due ore di aereo, due ore e mezza di aereo dall'Italia a seconda delle destinazioni, con voli diretti nelle principali città italiane. Il cibo, la cultura, le persone è molto simile comunque a quella italiana, con tutte le differenze del caso adesso e vi leggo poi nei commenti, voglio sapere che cosa ne pensate voi del Portogallo, ma soprattutto, come dire, siamo in un paese appartenente all'Unione Europea, in un paese completamente white list, quindi quando io mi trasferisco in un paese come questo è molto difficile subire, che io subisca in automatico un accertamento da parte dell'agenzia delle entrate, cosa che invece capita quando mi trasferisco in un paese black list come Dubai, come Panama, dove quindi c'è bisogno di un certo livello di expertise e per questo io lo consiglio poi in un secondo momento, quindi facciamo le cose per gradi. Io sono Luca Taglielatera, spero di aver tirato uno spunto di riflessione ulteriore con la mia personale storia riguardante il Portogallo, se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lasciami un like, noi ci rivediamo nel prossimo video.